Una tradizione dentro la tradizione. Questa domenica la 76esima Sagra delle Pesche di Montelabate ha ospitato al suo interno anche la 19esima edizione della Corsa delle Pesche. Un appuntamento ciclistico giovanile ormai divenuto consolidato che ha visto in gara oltre 100 ragazzi sui pedali per le strade territoriali del comune. Fra i ciclisti del primo anno ha vinto la Corsa Tommaso Cingolani in un podio completato da Andrea Lessiani e Edoardo Fiorini. Fra i ragazzi del secondo anno vittoria di Giulio Biancalana davanti a Federico Rotini e Stefano Cavalli. Hanno corso i ragazzi esordienti primo e secondo anno, i ragazzi che vanno dai 13 ai 14 anni. Ci sono stati 129 iscritti e 100 partenti. È stato tutto molto emozionante e tantissima gente ha partecipato alla visione di questa bellissima corsa, di questi ragazzi da ammirare perché con questo caldo è stata veramente dura oggi fare questa gara. I ragazzi delle biciclette sono partiti dal comune di Montelabate per poi proseguire lungo tutto il paese, arrivare fino alla Psella, sempre nel comune di Montelabate. Poi sono scesi lungo la Montelabatese, l'hanno percorsa fino di nuovo a tornare all'interno di Montelabate e hanno fatto 6 e 8 giri.